a pensare che le dosi vengano stornate e mandate in paesi dove vengono pagate di più. Il suo ministro, scusi se la interrompo, ma lei si ricorda, visto che appartiene a questo governo, che il 13 di giugno il suo ministro, cioè Roberto Speranza, annunciò un contratto con AstraZeneca? Se lo ricorda, si ricorda gli stati generali, quando disse che aveva firmato lui in persona un contratto che invece non è mai stato firmato e che era una colossale bugia? Se la ricorda? Si ricorda la bugia del suo ministro? No, se la ricorda sì o no? Mi ricordo ciò che ha detto il ministro, ovviamente non è una bugia perché il contratto fu firmato dai quattro stati. No, guardi, scusi, il suo ministero, la direzione generale del suo ministero, dopo pochi giorni, a richiesta insistente dei giornali, in particolare nostra, ammise che non era stato firmato niente. Dopodiché il problema dei farmaci è molto semplice. Gli altri hanno pagato. Mentre l'Europa, sa quanto paga l'Europa una dose del farmaco della Pfizer? 18 dollari. Sa quanti ne pagano gli Stati Uniti? Da quando c'è Biden, Biden ha promesso di fare 100 milioni di vaccinati in 100 giorni. E sa quanto paga? Tra i 20 e i 24 dollari. Sa perché Israele invece ha vaccinato 3 milioni di persone? Perché paga 28 dollari. Sa quanto avremmo, scusatemi perché, ma sa quanto vaccinare gli italiani quanto costerebbe? Poco più di 500 milioni, se davvero volessimo vaccinarli. E noi ne abbiamo buttati 450 per i banchi a rotelle che hanno portato via e non abbiamo fatto i contratti. Ma di che parliamo?